Il nostro gruppo di ricerca all'interno del progetto Violin è stato impegnato in due diversi work package. Come VP2 ci siamo occupati dell'applicazione di metodi statistici multivariati per l'analisi dei dati chimici prodotti dai diversi partner aderenti al progetto, mentre come VP4 abbiamo utilizzato appunto la spettroscopia nel vicino infrarosso per acquisire i segnali fingerprint dei campioni d'olio extravergine d'oliva. In questa presentazione voglio proprio focalizzarmi su questa tecnica analitica e in particolare sulle sue diverse applicazioni nel settore oleario. Innanzitutto perché considerare la spettroscopia nel vicino infrarosso una tecnica analitica vantaggiosa rispetto a quelle tradizionalmente impiegate per l'analisi dell'olio? Sicuramente per la rapidità di esecuzione. In pochi istanti è possibile acquisire un segnale NIR che non richiede alcun tipo di pretrattamento del campione al fine di eseguire l'analisi per i ridotti costi associati legati prevalentemente all'acquisto della strumentazione NIR, quindi all'acquisto della strumentazione ottica. Parliamo di una tecnica non distruttiva, quindi che non va ad alterare in alcun modo le proprietà chimico-fisiche della matrice analizzata e questo è un notevole vantaggio quando si tratta di campioni pregiati quali campioni d'olio extravergine d'oliva e in tema di sostenibilità la spettroscopia NIR rientra a pieno titolo nelle tecniche green in quanto non richiede l'utilizzo di solventi o reagenti particolari. E quello che ci consente di ottenere questa tecnica è questo segnale che vedete in verde che costituisce una vera e propria impronta digitale del nostro campione di olio e così come le nostre impronte digitali apparentemente sembrano essere tutte uguali, in realtà sono uniche e peculiari per ciascun individuo, anche uno spettro NIR racchiude l'informazione chimica unica di ciascun olio. Parlando di spettroscopia NIR parliamo di spettroscopia vibrazionale, quindi di una tecnica analitica che si basa sull'interazione tra la radiazione elettromagnetica e la materia. radiazione elettromagnetica nella porzione della regione dell'infrarosso più vicino allo spettro del visibile. Quindi parliamo di un range di lunghezze d'onda che va da 750 a 2.500 nanometri. E per entrare un po' nel cuore della tecnica vorrei ripercorrere le tappe fondamentali della radiazione infrarossa da un punto di vista storico, a partire dall'esperimento di Newton nella seconda metà del 1600, il quale dimostrò che un fascio di raggio di luce bianca passando attraverso un prisma di vetro veniva scomposto nei suoi colori componenti, a formare questo spettro allungato con i colori dell'arcobaleno. L'esperimento fu poi ripetuto nel 1800 dall'astronomo e musicista Friedrich Herschel, il quale era maggiormente interessato a capire quale fosse l'energia associata a ciascun colore. Riproducendo quindi l'esperimento di Newton, posizionò diversi termometri in corrispondenza di diversi colori che si formavano per mezzo del prisma di vetro, registrando un innalzamento della temperatura. Pose poi un ultimo termometro oltre la regione del colore rosso, registrando un incremento ancora più notevole di temperatura, scoprendo così l'esistenza di una radiazione che, sebbene non fosse visibile ad occhio nudo, era associata ad una notevole quantità di energia. Bisognerà aspettare però gli anni 40 del 1900 per la messa a punto della prima strumentazione in grado di sfruttare questa regione dello spettro elettromagnetico e addirittura agli anni 60, per parlare più propriamente di spettroscopia NIR, Carl Norris, il papà di questa tecnica, infatti propose una prima applicazione per quantificare il contenuto di umidità nel grano e nei semi. E questo a sottolineare come è stato proprio il settore agroalimentare a iniziare la tecnica e quindi la spettroscopia nel vicino infrarosso. Per quanto riguarda la strumentazione disponibile, esistono in commercio diverse soluzioni, da strumentazione da banco a strumentazione portatile. Vedete qui gli strumenti che abbiamo utilizzato presso l'Università degli Studi di Genova nell'ambito del progetto Violin e che seguono questo schema di funzionamento. Abbiamo quindi una sorgente luminosa che produce la radiazione elettromagnetica che va incontro a un collimatore, collimatore caldo non è che una lente curva che permette di raddrizzare i raggi luminosi prodotti dalla sorgente, e un selezionatore di lunghezze d'onda che a seconda della strumentazione può essere costituito da un sistema filtri, un monocromatore o un interferometro. Le lunghezze d'onda selezionate vanno quindi ad interagire con il campione che nel caso degli oli d'oliva che sono campioni liquidi piuttosto limpidi, sono stati acquisiti in trasmissione, quindi la radiazione trasmessa dal campione raggiunge il detector e l'energia radiante viene convertita in un segnale elettrico che ci permette di visualizzare i nostri spettri NIR, che come vedete nella slide sono caratterizzati da queste bande ampie, sovrapposte, di difficile interpretazione diretta. Per questo motivo viene applicata l'analisi multivariata al fine di estrarre le informazioni chimiche di interesse contenute all'interno dei nostri spettri NIR. L'analisi multivariata ci consente infatti di ottimizzare il segnale acquisito, di esplorare i nostri dati per identificare similitudini o differenze tra i campioni acquisiti e infine di sviluppare modelli predittivi per la stima di parametri di interesse nell'olio d'oliva. E questa sinergia tra la spettroscopia NIR e l'analisi multivariata si è rivelata uno strumento estremamente potente ed efficace per diverse applicazioni nel settore oleario, a partire dall'individuazione delle adulterazioni alla caratterizzazione sulla base dell'origine geografica alla determinazione di specifici parametri di qualità. Per quanto riguarda gli studi di adulterazione, la spettroscopia NIR viene utilizzata per riconoscere ed identificare alterazioni della qualità dell'olio extravergine d'oliva con oli di qualità inferiore come ad esempio oli di sansa o oli lampanti deodorati oppure con oli vegetali di diversa provenienza come oli di girasole, di soia, di mais che vanno proprio ad alterare quella che è la qualità del prodotto finito. E come potete vedere già attraverso una visualizzazione dei segnali fingerprint possiamo identificare degli shape caratteristici per i diversi oli vegetali e a questo scopo è stato allestito un laboratorio didattico nell'ambito del Festival della Scienza che è una manifestazione a carattere divulgativo che si tiene nella città di Genova ogni anno in cui animatori e visitatori mediante strumentazione portatile hanno potuto acquisire in prima persona gli spettri NIR per vedere come fosse possibile identificare la presenza di diversi oli addizionati a oli extravergine d'oliva. Per quanto riguarda la caratterizzazione sulla base dell'origine geografica sappiamo che sono diversi gli oli italiani che sono stati insegnati dei marchi DOP e DGP e quanto siano diffuse frodi commerciali riguardanti proprio l'origine geografica degli oli d'oliva. Anche in questo caso la spettroscope NIR quale metodo rapido e non distruttivo si rivela assolutamente efficace per garantire l'autenticità e la tracciabilità della provenienza geografica dei diversi prodotti a tutela in primis del consumatore. Infine la spettroscopia NIR viene impiegata anche per determinare quelli che sono importanti parametri di qualità a partire dagli standard per definire la classificazione merceologica degli oli d'oliva stabiliti dalla normativa comunitaria quali ad esempio l'acidità o il numero dei perossidi legati all'invecchiamento e al possibile rancidimento del prodotto a parametri legati prevalentemente a quella che è la genuinità dell'olio d'oliva come ad esempio il profilo degli acidi grassi o il contenuto di polifenoli. Quindi anche in questo caso la spettroscopia NIR viene utilizzata proprio per la quantificazione e la determinazione dei diversi parametri di qualità.